Va benissimo, ma perché 72 pagine? Perché dobbiamo andare a risparmiare sui costi di stampa, perché se state troppo alti, e qui anche per rispondere alla domanda di Gabriele, se state troppo alti, dopodiché non riuscite a marginare abbastanza e siete poi in difficoltà quando dovete fare l'advertising su Amazon, perché se biddate troppo alto, faccio un esempio, se biddate a 50 centesimi ogni 10 click, spenderete 5 dollari e vedete una copia, ma avete un margine, quindi una royalties netta che portate a casa di 3, non ci state dentro, ok? Quindi è tutto un gioco di margini, che lo aggiustate come? Abbassando i costi di stampa, quindi meno pagine possibili, alzando il libro, il trezzo del libro, quanto più possibile, cercando di ricavare il margine in questo modo, bianco e nero a colori. A colori, chiaramente, standard o premium, aumenta il costo di stampa, col bianco e nero diminuite il costo di stampa, ecco perché vi dico che a colori dovete stare con il numero di pagine ovviamente più basso, a meno che, chiaramente c'è l'eccezione, è una regola 100% così, a meno che non siete in una nicchia, ok? Dove i vostri competitor, con tutti volumi grandi, ma prezzo medio, viene in mente una nicchia dei libri di test, test preparation, c'è un po' la categoria su Amazon, si chiama test preparation. E qui sono libri che prezzano 30, 35, 40 dollari anche, quindi già un gioco diverso, ok? Bene. Danilo Castello, ciao Yuri, sto pubblicando, ma trovo difficoltà a creare recensioni velocemente anche con i metodi a pagamento, facebook ads, web landing page, dove consegno i pdf in cambio della recensione. Può illuminarmi, probabilmente Danilo, stai sbagliando nella sequenza, perché starai facendo una sequenza email, giusto? Ok, come gli chiedi la recensione a queste persone? Ok? Come gli chiedi questa recensione? Ok? Ok, ti do il pdf, pur è che automaticamente avviene una transazione perché tu gli hai dato il pdf. Cosa gli chiedi? Come glielo chiedi? Quando glielo chiedi? Che cosa gli offri in cambio? Solo il pdf? Dubito. Questa parte è ben spiegata, lo spiego spesso, all'interno delle zoom settimanali lo affrontiamo più e più e più e più volte. Io uso wise, dice chiara, spettacolare, poi ragazzi torniamo a bomba sull'argomento della live, però penso che qualcuno ci è arrivato. Ho colto questa opportunità di parlare di questo argomento, quantità o qualità, perché ho ricevuto un commento da parte di un carissimo ascoltatore di miei video, che ha commentato così, vediamo, ho il commento di Rosa, l'avevo visto, abbiamo il commento di Cristian, dopo lo prendiamo. Giuseppe Antonio Mauro, dice, hai fatto già almeno 4 video sull'argomento, è assolutamente vero e non lo dico perché lo penso, ma perché l'ho verificato personalmente. Non ho mai avuto risultati eccezionali del core publishing, però negli ultimi mesi in cui ho fatto 4-5k, che non è male, avevo pubblicato circa 15 libri in modo relativamente veloce. Poi per un motivo ho dovuto depubblicarli, adesso sto andando molto molto lento nella pubblicazione e i risultati faticano a vedersi. Questo è il fattore numero 1, la qualità di tutto il resto è secondario, ne parliamo, interessante questo commento, grazie Giuseppe Antonio Mauro, o quale dei tre è il nome, comunque ti ringrazio e ti ringraziamo per questo commento. Ragazzi fate i commenti intelligenti, come ha fatto Giuseppe, ok? Non fate i commenti del cazzo come capita spesso di vedere sotto le sponsorizzate, abbiamo una sponsorizzata che tra l'altro ragazzi sta diventando virale, diciamo così, no? Si usa dire così in questi ultimi periodi, no? Iniziata virale perché abbiamo fatto in me un errore, io sono stato macchinista ferroviario, ok? Per 14 anni, da 2006 al 2020. Nello scrivere il testo che precede il video, il mio collaboratore ha sbagliato, confuso, ha scritto da capotreno, da povero capotreno, eccetera eccetera, ma il video chiaramente dice da povero macchinista, perché sono stato macchinista, cazzo ragazzi, ma c'è la foto che sto guidando il treno, porca miseria, è evidente, e sotto la gente forse questo è il fattore che l'ha fatta diventare virale, diceva capotreno, macchinista, no? Eccetera eccetera. Ragazzi ma guardate la foto, fate i commenti intelligenti, è ovvio, è evidente che sia un errore, ma siccome sta spaccando, ok? C'è un valanghi di commenti, migliaia di visualizzazioni, interazioni, eccetera, non la voglio staccare e non la vogliamo correggere, perché sennò poi perde questa spinta, quindi per tutti i geni, no? Che stanno lì guardando il pello nell'uovo, è evidente ragazzi, se no io andavo in live dicendo cazzate, potete andare a chiedere a Milano a Porta Garibaldi, affacciatevi agli uffici, no? Della divisione regionale, ex divisione regionale Trinitalia, ora a Trenord, chiedete, ma gli uomini tu fanno, ha mai lavorato qui? E andate a chiedere, e vi togliete la comunità, ragazzi. Oggi stai venuto a rispondere a un commento, che mi ha girato il team, venuto a dire, ragazzi, questo diceva, ma tu hai mai girato neanche un macaco in vita tua, il macaco, lo scambio? No, se ero macchinista, se facevo il manovratore, giravo lo scambio, ragazzi. Però in compenso, per tutti i ciucciabinari presenti in live e per quelli che magari in futuro guarderanno il video, ho avuto il piacere, nella mia carriera ferroviaria, non di 40 anni per fortuna, ma di 14 anni, che comunque non è qualcosa di breve, ho avuto il piacere di condurre, così si dice, la E646 158, che per chi si intende di treni, e oggi, spero che lo sia ancora, perché era un gioiellino, una locomotiva che fa parte del parco storico rotabili di Trenitalia a Milano, prima era a Milano, ok?